La vista dal nostro terrazzo che non vedremo mai più, la verità ne mancherà. Ciao, tanto tanto Milano, ma vogliamo parlare di dove rischio di finire. Cinque personaggi in cerca di futuro sono i protagonisti di Fino a qui tutto bene, il nuovo film del pisano Ron Johnson, che sarà presentato in anteprima al pubblico il 18 Sera al Fulgor di Firenze e che sarà nelle sale italiane dal 19 marzo. Alessio Vassallo, Paolo Cioni, Silvia D'Amico, Guglielmo Favilla e Melissa Anna Bartolini interpretano cinque giovani universitari che hanno vissuto nella stessa casa, condividendo sentimenti, amori, bollette e pasta asciutta al nulla e che adesso sono in procinto di affrontare la vita adulta. Tra spensieratezza, feste e spettacoli, la prospettiva dei cinque sembra essere a breve scadenza, quasi come se fosse impossibile fare progetti a lungo termine e le uniche preoccupazioni sono il cavarsela, il non arrendersi nonostante tutto nonostante la crisi e la precarietà. Ecco, dopo i primi della lista in cui c'erano sempre dei ragazzi però che vivevano una situazione molto influenzata dalla politica di quel momento, ora un gruppo di ragazzi in cui comunque la politica viene fuori e sembrano interessargli niente. Quindi un grosso salto che tu hai rappresentato e corrisponde alla realtà purtroppo. Guarda, noi siamo partiti appunto da un lavoro di ricerca che abbiamo fatto sugli studenti che fanno adesso l'università e che hanno appena preso la laurea e si districano fra borse di studio, dottorati, assegni così. E loro ci hanno raccontato gli aneddoti divertenti, buffi che abbiamo raccontato nel film ma anche un sentimento che io invece credo che comunque in qualche modo sia politico anche quello. Cioè di dire noi non vogliamo, perché dobbiamo pagare noi gli effetti di una crisi di cui in fondo non abbiamo nessuna colpa. Non ci vogliamo arrendere, vogliamo fare le cose che amiamo, piuttosto puntare più in alto, fare le cose da soli ma fare ciò che si ama. Io credo che questa determinazione ad esempio rispetto alla generazione mia che io mi sono laureato a fine 90, inizio 2000, non l'avrei mai trovata perché noi non eravamo consapevoli così tanto, quindi vivevamo ancora di più secondo me in una bolla dove tutto all'incirca sembrava andar bene. Ecco, io credo che fondamentalmente si debba seguire la generosità, l'umanità, lo spessore dei personaggi e delle persone che si vanno a raccontare. Lì c'è già tutto, nelle storie che ti raccontano, in quel momento così acerbo ma vitale, quegli anni che sono una sorta di palestra perché si impara a sbagliare e si impara non solo sui banchi di scuola ma invece nelle case degli studenti, a giro, nelle feste, innamorandosi della persona sbagliata. Ecco, lì dentro si racchiude tutto secondo me. No, in fondo sono gli anni che non so se sono proprio i migliori della nostra vita ma sono quelli che non si dimenticano mai. Tra i cinque giovani, Paolo Cioni, che aveva recitato anche nei primi della lista è quello più toscano di tutti, per il nome che porta e per i sentimenti che lo animano. Mentre Melissa Anna Bartolini descrive le difficoltà di una giovane donna a seguire e realizzare le proprie aspirazioni professionali. Sì, il ragazzo Paolo Cioni, cioè Piero Cioni nel film, è pisano e viene chiamato Cioni proprio perché Cioni per Antronomasia è il cognome classico toscano. Quindi come non far capire subito allo spettatore che Cioni è comunque il personaggio che rappresenta una zona dell'Italia riconosciuta come la Toscana. In questo caso Pisa e poi c'è anche l'altro ragazzo che è Livornese ma comunque non era importante che fosse così chiaro. Una toscanità che viene rappresentata anche con valori positivi perché tu alla fine del film sei un buono che si offre anche di essere il padre del nascituro. Sì, questa toscana madre del mondo. Per quanto riguarda invece il mio personaggio se forse non trova quello che pensa di volere forse perché non sta andando veramente nella giusta direzione. Io credo fortemente nell'impegno e nella determinazione. Se non si ottengono le cose che si vogliono indipendentemente dalla crisi e dalle difficoltà è perché forse ci dobbiamo impegnare di più o meglio. Il film è realizzato con il fondo in cammin di Toscana Film Commission mercoledì 11 marzo sarà presentato all'Ateneo Pisano alla presenza di Paolo Virzi cui il film deve molto nel solco della tradizione dei principali registi della comedia italiana. Quanto Virzi c'è nel tuo cinema secondo te? Guarda, Virzi è comunque una persona che per me è stata sempre presente sia dai suoi film, dalla Bella Vita, Ovosodo che io appunto quando ero il giovincello ho amato tantissimo sia perché poi quando io sono entrato al centro sperimentale lui era uno dei maestri lì al centro e lui mi continuava a dire te non sei sceneggiatore ma te sei regista te devi far regista e quindi è stato lui a farmi esordire perché mi fece girare questo episodio del film 442, il gioco più bello del mondo con Mastandrea quindi feci questa prima esperienza grazie a lui ne uscì dal set devastato con un'ansia immenza ho detto non mi ci fate più andare e poi invece piano piano ho continuato e quella tradizione della commedia all'italiana loro in fondo, Bruni, Virzi anche Bruni è stato un mio tutor al centro erano studenti di scarpelli quindi diciamo che c'è sicuramente un'eredità della commedia all'italiana grazie a tutti grazie a tutti